Era meglio morire da piccoli, con i pedicoli al botuffono piuttosto di morire soldati, con i pedicoli bruciati è un casino montare sto coso forse ce l'abbiamo fatta pazzarola, è un mondo difficile come deve fare un poveraccio come me per guadagnarsi la vita facendo questi video bruttissimi che mi risultano su youtube la gente ride di me le ragazze ridono di me tutti ridono di me guarda guarda sembra che funonzi funonzi voce del verbo funonziare ok il selettore va ti prego prometto che farò il bravo mi comporterò bene aiuto guarda mi tocca pregare in tutte le lingue umanamente conosciute dimentico qualcosa probabilmente sì ma tanto non serve tutto quello che si dimentica e superfluo non se può non se può è un mondo difficile guarda andiamo a mettere le quattro viti del motorello prima di tutto e andiamo inserire certo che se i miei iscritti vedessero questo video che sputtanamento sarebbe perché non è pure la mosca sul dito pure la mosca ride di me non è facile perché non entri come diceva quella storia entrano i fanti entrano gli eroi perché tu str ok questo sta entrando dai una vite su quattro dovrebbe essere una buona percentuale di successo di avvitamento tu non vuoi entrare a te non ti metto ti lasciamo così il trapano mezzo aperto potrebbe anche andar bene lo stesso non è che le cose bisogna farle precise precise qua non siamo mica tedeschi e vedete queste sono le difficoltà che nessuno su youtube vi fa vedere ci sarà un motivo per cui poi non fanno vedere quanto è rompi palle il rimontaggio ecco perché nessuno li va ad aprire sti cosi perché poi come cacchio li monti dai questa vita sembra che abbia preso ok due viti su quattro vai penso che possa bastare tanto due su quattro è meglio di una su quattro ok e qui cosa dobbiamo fare qua dobbiamo stringere ma se io invece ci metto due passate di scotch non è meglio chi se ne accorge scotch trasparente dai non si vede niente e già due passate di scotch fosse stato in metallo avrei usato la saldatrice l'avrei aperto con con la smerigliatrice parkside e poi con la stessa saldatrice parkside l'avrei risigillato chi se ne accorgeva no ok quattro su quattro non ci posso credere un miracolo ma tanto poi non funziona figuracce ci farei sapete qua in spagna ora sapete come se stessi facendo il video qua in spagna c'era un tipo che si era pelato cioè si era tagliato a zero i capelli per lo meno i capelli non so se ce l'avesse si era tagliato a zero le sopracciglia e chiedeva soldi dicendo di avere non so quanti tumori che stava in chemio eccetera 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 e praticamente che è successo facendo un video su youtube nel quale chiedeva soldi alla fine del video ha lasciato ha chiuso male il il pulsante della della sua videocamera cioè non l'ha chiuso e il video continuato a filmare il coglionazzo pensando che il video era terminato dopo aver fatto la scena pietosa nella quale quasi piangendo se non piangendo chiedeva soldi per tutti questi tumori che aveva che la servizio nazionale non gli copriva le cure eccetera e riceveva soldi praticamente scoppia a ridere e inizia a sfottere i suoi iscritti la gente che lo guardava la gente che gli credeva tanto e gli fa pure il gesto dell'ombrello e prende questo pelato senza rendersi conto che la macchina la videocamera ancora stava filmando che fa passa il video al computer e lo mette online così com'era con tanto di confessione si è sputtanato totalmente l'hanno denunciato l'hanno sì è diventato famoso è passato dal web alla tv però il problema è che è diventato famoso pure nei tribunali perché gli è subito piovuta addosso una denuncia per falso per truffa di tutto e l'hanno rovinato questo è successo già per meno un paio d'anni fa e anche ancora oggi se ne parla quando si parla di truffatori sul web che ti fanno vedere che aprire chiudere un trapano parkside è facile è praticamente automatico che in spagna si parli anche di questo tipo ora non so come non ricordo come si chiamava ma magari poi lo cerco e quasi quasi faccio un video su di lui su questi truffatori del web ovviamente curando di non inserire il mio nome perché altrimenti anch'io perdo la mia brillante reputazione ma questo è stato fenomenale non so quanti soldi si è fregato in donazioni mi pare qualcosa come 200 300 mila euro di gente che dice poverino sta morendo mandiamogli un aiuto certo che certoni si bevono proprio tutto ora mi ha avanzato una vite era di più no andava qua nella serie chissà se funziona ora che ho terminato di chiuderlo diceva per saperlo andiamogli a mettere sta pataccata qua che era era facile toglierlo mentre è stata una scemenza funzionerà io dico di no ora scoppia e da usare gli occhialini progettivi funziona anche meglio e dall'altro c'è anche la lucetta che funziona non ci posso credere questa lucetta è perfetta quando uno si sveglia di notte e deve andare a fare pipì ora per non accendere la luce della stanza per non disturbare tutto il mondo per arrivare al bagno passando al corridoio e soprattutto dalla cucina tu ci vai con l'avvitatore al minimo così non fa rumore arrivi al frigorifero lo svaliggi poi vai a fare pipì nella notte ora questo qua dove stava io sono sono destro quindi questo deve andare a sinistra giusto ragionamento ci andiamo a mettere questo bagaglio di gancio per la cintura non voglio nemmeno stringere troppo forte da prima era stretto modello disgrazia ok e ora questo trapano subirà l'affronto finale che la stretta di tutte le sue viti con un black and decker fatti trappanare dopo un black and decker uso black and decker a modi chiave dinamometrica giusto per serrare tutte le viti con la stessa forza ok ok sempre una mosca che rompe le palle forse un segno se una mosca va su un trapano che può sembrare buono può essere che la mosca ti voglia avvisare che in sostanza il trapano è di un'altra sostanza potrebbe anche essere no quando non ci si arriva bene non voglio rischiare di spanare o rovinare quindi ci vado sempre manualmente ci arrivo ok ok qua è stretto bene il settore della velocità fantastico ok trapanetto da 80 euro con la batteria un poco fasulla ha fatto la sua l'apparizione nel web ok spero che si iscriva tanta gente così insomma andrò smontare tanti altri prodotti park site bene fatto